Ma ognuno è nostalgico della propria giovinezza, quindi può darsi che lo sia anche il dottor Davigo. E per altro verso bisogna capire se un settore della magistratura è solo un settore, perché onestamente ci sono state risposte politiche di vario tipo, però se un settore della magistratura, così come un settore della magistratura ai tempi in Mani Pulite vedeva come suo punto di riferimento il PDS, tant'è che chiuse gli occhi rispetto alla sua esistenza del PDS nel sistema di Tangentopoli, adesso un settore della magistratura vede come propri punti di riferimento politici il Movimento 5 Stelle e la Lega e i conti tornano visti il fatto che Movimento 5 Stelle e la Lega hanno applaudito entusiasticamente al dottor Davigo.